Buongiorno, buongiorno e bentrovati ad un nuovo numero di Mattia. Inizia una nuova settimana in nostra compagnia, in questo lunedì 13 giugno, un lunedì che segue un weekend di festeggiamenti a Pescara per la conquista della Serie A, poi per quanto riguarda il calcio dei dilettanti da segnalare ieri il ritorno in Serie D del Pineto che ha avuto la meglio del Subasio. Questo è anche un lunedì caratterizzato dall'esordio degli azzurri di Antonio Conte nel campionato europeo, questa sera il match con il Belgio. Questi sono alcuni dei temi che vedremo nel corso della nostra rassegna stampa attraverso le pagine dei giornali, anche attraverso alcuni servizi. Sì, chiaramente l'attentato in Florida di ieri rivendicato dall'Isis e il fatto che domina le prime pagine delle testate nazionali. Iniziamo proprio dal Corriere della Sera, ecco l'apertura, Orlando, Stati Uniti, terrore nel locale gay, killer di origini afghane, entra, spara e fa strage, 50 morti e oltre 50 feriti. Fedele all'Isis, il califato rivendica Obama, ma noi non cambieremo. E poi c'è l'editoriale di Massimo Gaggi, l'ombra che cala sul voto USA e in basso Guido Olimpio, il lupo spietato vicino di casa. In basso i fidanzati e la mamma nella casa esplosa, le vittime del gas a Milano, il bocconiano e la ragazza in posa con il rocker del Bataclan. Ovviamente questa è anche l'apertura della Repubblica di oggi, strage nel club gay, la firma dell'Isis USA, ventenne di origine afghana, dichiara fedeltà al califo e rompe in un locale in Florida, 50 morti, poi è ucciso. Lo Stato Islamico rivendica, è uno dei nostri, Obama un attacco a tutti noi, Trump più duri con l'Islam, si dimetta. E poi in taglio medio possiamo vedere immigrati a Milano, corruzione a Roma, ecco le sfide che decidono i ballottaggi. Oggi così si schiera il no agli elettori a Torino e Napoli, l'emergenza e il lavoro. O meglio, ho sbagliato a leggere, quindi chiedo scusa, così si schierano gli elettori a Torino e Napoli, l'emergenza e il lavoro. In basso Parigi vieta l'alcol agli hooligans, ma la sicurezza fa ancora acqua, nuovi disordini agli europei, ultrarussi scatenati. E poi ancora guarda il mare per me Francesca, le lettere dal carcere di Enzo Tortora. Andiamo ora a vedere la prima pagina del giornale, che arriva, eccola qui. Isis fa strage di gay, l'Occidente guarda la sua sottomissione. 50 morti, il killer di 29 anni ucciso nelle blitz, rimedicazione dello Stato Islamico. E poi il gioco sporco dei democratici, la Boschi, minacce Ghirlini, niente soldi se vincete. E poi il cavaliere in ospedale, Berlusconi, telefona a Parisi, il candidato ci ha rassicurati. E poi l'editoriale di Piero Stellino, il caso Mein Kampf, da liberale dico, nessuna censura ai testi storici. Andiamo in basso, scontri e falle nella sicurezza. L'Europeo disintegra l'Europa e oggi in campo ci va l'Italia. Il controcorrente in basso, tumori, la setta dei medici che non cura i malati. Prima pagina ora del fatto quotidiano. Ora la Boschi gioca sporco, la ministra minaccia di tagliare i fondi di governo se il Movimento 5 Stelle vince a Torino. E poi sotto la testata, Orlando ucciso il killer, site pubblico e la rimedicazione ISIS. L'America spara ancora, strage nel locale gay, 50 morti e 53 feriti. Euro 2016, Francia, altri scontri all'Ile, la UEFA minaccia esclusioni, Russia e Inghilterra avvertite. E poi ancora in basso, storia di copertina, il giallo del ballottaggio. E poi ancora in primo piano Milano crolla palazzo, in tre perdono la vita, due gravi. A Matera la vergogna d'Italia in cerca di riscatto. E poi calcio De Rossi, alla Serie A preferisco i miei ragazzi, chiaramente è Alberto De Rossi, il papà del calciatore Daniele. Pseudoscienza, una galassia piena di celtroni, si interroga sui cieli, la solitudine davanti all'universo. Lasciamo così il fatto quotidiano. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero. Anche in questo caso l'apertura è dedicata a quanto accaduto ad Orlando. E quindi massacro ISIS nel club dei gay. Un uomo di origini afghane irrompe in un locale di Orlando, in Florida, e spara. I morti sono 50, l'attentatore ucciso dalla polizia era vicino ai jihadisti. Per gli investigatori è un atto di terrorismo. E poi sotto la testata Euro 2016, primo esame per l'Italia, De Rossi titolare contro il Belgio. L'analisi raffiche sulla campagna elettorale che aiutano il Trump anti-Islam. E poi a proposito di elezioni, ma tornando in Italia, raggi, giacchetti, duello TV e scontro sulle Olimpiadi. La grillina per ora è no, il DEM sono 170 mila posti di lavoro. Poi in basso, torniamo ai fatti di Orlando, Omar il killer, botte alla moglie, selfie e odio per gli omosessuali. In basso, tre vittime per una fuga di gas, palazzo esplode, terrore e morte a Milano. Possiamo lasciare anche la pagina nazionale del messaggero. E ora andiamo sulle testate locali, andando quindi con il centro e con le quattro edizioni, le quattro prime pagine. Iniziamo dall'edizione aquilana. Fiera in 6.000 sfidano la pioggia a San Massimo, nonostante i temporali e il vento forte. Buona partecipazione al Parco del Castello. Soddisfatta la Confcommercio è ora al lavoro per organizzare l'evento della perdonanza. Poi sotto la testata, vedete, c'è il titolo legato all'Italia. Oggi tocca a noi, Conte si affida a Pelle e Eder. Sfidiamo i numeri due al mondo, scrive Angelo Di Marino. Andiamo al centro della pagina. A Tagliacozzo è arrivata la reliquia di Sant'Antonio. Questo appunto nella fotonotizia. Di spalla, verso il voto a Sulmona, Bianchi di Masci, c'è l'apparentamento. A San Pietro della Ienca si parla di sviluppo proposte per la città. E poi c'è il Buongiorno Abruzzo di Lorenzo Colantonio. In basso, noi gli uomini d'acciaio della Tiburtina. Un commento al traffico in tilt, appunto, sulla strada statale 5 Tiburtina. Dopo i provvedimenti presi per la disputa di Iron Man, appunto, con strade chiuse e traffico bloccato sulla importante arteria della Tiburtina. Vediamo ora la prima pagina di Chieti. Ecco qui, da Chieti, il metro per l'Abruzzo. Apre la nuova stazione di Madonna delle Piane. Oggi, a mezzogiorno, l'arrivo del primo treno si va a Pescara con meno di 2 euro. Con 4 arrivi a Sulmona e con 5 raggiungi Teramo. La fotonotizia al centro, Chieti in rosa, la foto del successo. Le ragazze teatine del calcio a 5 Asi, campionesse d'Italia. Poi i richiami di spalla. Vasto verso il ballottaggio Casa Pound spacca la città dei partigiani. E poi ancora, ecco qui, in realtà in precedenza era Lanciano, verso il ballottaggio. Si parla anche dell'apparentamento appunto tra Enrico D'Amico che concorre al ballottaggio e Tonia Paolucci che invece è uscita di scena a livello di competizione comunale dopo il primo turno e appunto c'è l'apparentamento. Eccoci a Vasto, D'Alfonso, lo sponsor di Menna Laudazzi. Ora il centro edizione di Teramo, ecco la prima pagina. Banca di Teramo, 3.000 soci in fuga. L'assemblea sancisce a porte chiuse l'incorporazione con l'istituto di credito di Castiglione e Pianella ma in molti annunciano azioni legali nei confronti della gestione responsabile del crack. E poi, ecco la fotonotizia al centro. Esplode la gioia del Pineto, torna in D dopo 18 anni. Trionfo ai playoff. Ed eccoci ai richiami. Spaccata all'Oasi con il carro a Trezzi, colpo fallito al Market a Teramo. E poi, per quanto riguarda il voto nel comune di Roseto degli Abruzzi, Pavone corre da solo. No all'apparentamento. E quindi vediamo la prima pagina dell'edizione di Pescara. Prima di andare poi a sfogliare le pagine del centro. La prima pagina dell'edizione di Pescara è dedicata a queste novità sul fronte dei parcheggi con appunto i parcheggi della Riviera Sud che saranno a pagamento. Ecco qui le novità. Strada Parco e Riviera Sud a 4 euro. I parcheggi per l'estate. In arrivo il Via Libera al ritorno delle automobili nell'ex tracciato ferroviario. Il vice sindaco del Vecchio. Il ticket sarà una tassa per pagare i lavori sul lungomare. Poi, in precedenza, parlavamo della competizione di Ironman. Ecco qui, all'Ironman trionfo svizzero. Polemiche per la viabilità. Vincono Wild e Spirig. E poi i richiami festa della Pescara Calcio. Alessandrini, i fischi non erano per me. E poi, fermato a un posto di blocco, cocaina in cucina. Disoccupato, arrestato. Questo dunque per quanto riguarda la prima pagina dell'edizione di Pescara. Possiamo entrare ora all'interno del centro per sfogliare. Eccoci qui a pagina 9 per l'Abruzzo. Assistenza, soccorso e una mano in ufficio. La guida alla scelta. Servizio civile, 355 posti da 433 euro al mese. Domande entro il 30. Ogni candidato può concorrere solo a uno dei 70 progetti per l'Abruzzo. Ecco, enti e mansioni. E poi istruzioni per l'uso, l'alternativa extra regione e come si fa ad iscriversi. In basso, assunzioni, aggirate le liste dei disoccupati. Il fenomeno in Abruzzo raccontato da Petrella del Movimento regionale. Aperto un gruppo su Facebook. Avanti ancora con pagina 10. In 10.000 iniziano gli esami di terza media. Le date di avvio tra oggi e domani a seconda delle singole scuole. Poi venerdì tocca le tanto temute prove invalsi decise dal Ministero. Poi Consiglio regionale, garante dei detenuti, si rivolta con il presidio pro Bernardini. In basso, Corneli alla guida di Feder Manager. Riconfermato presidente. Dirigente pubblico privato, esiste una sola classe dirigente. Avanti ancora con le pagine di Pescara e provincia. Si riparte dalla questione parcheggi che aveva dato il titolo d'apertura al centro di Pescara. Strada Parco e Riviera Sud. La sosta costarà 4 euro. La giunta pronta a dare il via al ritorno delle auto sull'ex tracciato ferroviario. Del vecchio, il ticket sarà una tassa di scopo per pagare i lavori sul lungomare. Poi il precedente, ma tre anni fa, la tariffa per l'auto era di 2,5 euro. In basso, il litorale di Monte Silvano è nel degrado. La FIBA Confeter Centi lancia l'allarme. Manca l'illuminazione in alcune zone ed è piena di prostitute. Ecco qui Iron Man. C'è l'Iron Man. Proteste e ingorghi sulla Tiburtina. Questa è la parte un po' più relativa alla cronaca. Poi nelle pagine dello sport vedremo il risultato sportivo. Ecco qui. Proteste e ingorghi sulla Tiburtina. Il maltempo ha ridotto. Circolazione e disagi. Ma la chiusura dell'asse ha creato problemi nell'area metropolitana e al traffico in uscita e in entrata a Pescara. Poi sempre polemiche sul Sanzificio. C'è la presa di posizione di Forza Italia. Servono altre misure contro la puzza del Sanzificio. In basso cimitero, sette dipendenti a rischio. I lavoratori della FIDIA che operano a San Silvestro vanno in cassa integrazione. E poi le parole di Marco Alessandrini, il sindaco di Pescara, fischiato nel corso della festa del Pescara in Piazza della Repubblica sabato sera. I fischi non erano per me ma contro il sistema. Il sindaco parla della contestazione alla festa del Pescara e replica ai costruttori. Mi criticano perché sono in difficoltà. In basso è scomparso l'artista civitaresa, il pittore. Ottant'anni ha collaborato con importanti collezioni in Italia e all'estero. Itacadei al porto turistico, lotta alle leucemie e la barca dell'Ail al Marina di Pescara. Pescara, folla di ragazzi per Dio a Matteo e dura senza di te, chiesa gremita a cappelle per i funerali dello studente dell'istituto Spaventa, morto dopo lo schianto in auto. E poi, pochi giorni dopo la sua riconferma, primo cittadino di Francavilla al mare, la proposta sorpresa del sindaco. Luciani chiama in giunta i 5 Stelle e si becca un no. Avanti ancora con la pagina di Chieti, il metro leggero in città. Da oggi con 5 euro fai il giro d'Abruzzo. I costi dei biglietti e i tempi per raggiungere Pescara, Teramo e Sulmona, della nuova stazione di Madonna delle Piane. E poi, di lato, vediamo proprio l'articolo su quanto sta accadendo in questi giorni a Lanciano in vista del ballottaggio. Lanciano al voto, Casa Found spacca la città simbolo dei partigiani dopo l'annuncio dell'apparentamento di Enrico D'Amico con Tonia Paolucci. Qui li vediamo nella foto. Invece, per quanto riguarda Vasto, D'Alfonso, sponsor del patto Menna-Laudazzi. Nessun apparentamento al ballottaggio resta in piedi l'ipotesi di un accordo elettorale. Avanti ancora, con la pagina dell'Aquila, Dimasci Bianchi. C'è l'apparentamento Casini e fantapolitica sul Mona verso il ballottaggio. Bianchi, Forza Italia, entra in consiglio e l'Apelino bacchetta i suoi colleghi che criticano l'accordo. E poi ancora, a San Pietro della Ienca, Petrocchi e Trifuoggi. Un confronto a due. Boom di parti indolori in ospedale sul Mona, ultimo nato Simone. La mamma Laura, invito le mamme a partorire qui in basso. A Tagliacozzo, ecco la reliquia di Sant'Antonio. Ieri sera la cerimonia solenne nella chiesa di San Francesco, alla presenza di tantissimi fedeli. E ora ci accendiamo a chiudere con il centro. Poi faremo la prima pagina del messaggero a Buzzo. E quindi il nostro break meteo con Giovanni De Palma. Il crack della banca, BCC di Teramo. Se ne vanno 3.000 soci. L'Assemblea sancisce l'incorporazione con l'Istituto di Credito di Castiglione. Porte chiuse e stampa esclusa. In molti annunciano l'avvio di azioni legali nei confronti della vecchia gestione. Qui vediamo delle foto con l'ex presidente Artoni, il presidente Savini. Qui vediamo l'ex presidente Echiodi. E in basso Paolo Tancredi, il parlamentare, nonché figlio del fondatore del BCC Teramana. L'ha spaccata con il carroattrezzi, ma il colpo al supermarket fallisce. Roseto, Pavone corre da solo. Nessun apparentamento. Lasciamo per ora il centro e andiamo a vedere il messaggero Abruzzo. Il tempo di posizionarci dunque sul prima pagina del messaggero Abruzzo. E possiamo andare. Si parla di elezioni amministrative. In particolare in questo caso l'apertura è dedicata sul Mona. Ballottaggi sorpresa sul Mona. L'apparentamento tra la Bianchi e Dimasci rivela la frattura interna a Forza Italia. Scintille tra Gatti, Sospiri, Febbo e Lapelino. Lanciano da Paolucci spiega il sì a D'Amico. Poi sotto la testata ci sono tre richiami. Vasto Giunenova, il ritorno delle frecce a Bianca. Festa e brindisi sui binari. Chieti pestato perché indossava la maglia del Pescara. Pescara spettacolo a metà Ironman. Il maltempo cancella la prova di nuoto. L'edizione 2016 della gara di triathlon condizionata da vento e pioggia. Il maggior numero di strade chiuse ha aumentato i disagi dei pescaresi. Poi anche in questo caso si parla dell'addio alla BCC del modello Teramo inglobata da Castiglione Pianella. L'ARIT diventa ARIC. Sarà centrale unica per gli appalti. E poi la fotonotizia. Dopo la festa, la squadra che verrà a pescare a italiano con Lapadula e Caprari. sempre in taglio medio, segnali di ripresina nel manifatturiero sale il peso di Chieti. Rapporto cresa, le multinazionali trainano e compensano i guai di piccole e medie imprese. Prima di sfogliare all'interno le pagine del messaggero Abruzzo, io vado a dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, subito le ultime su questa estate un po' ballerina. Sì Andrea, perché l'Italia continua ad essere interessata dal transito di perturbazioni legate a un flusso di correnti fresche di origine atlantica che nelle prossime ore continueranno a giungere sulla nostra penisola e ciò darà luogo a materattive condizioni di instabilità sulla nostra regione che al mattino si manifesteranno soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione dove ci saranno degli annuvolamenti localmente, dei rovesci in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, in tarda mattinata. Però attenzione perché poi nel primo pomeriggio, nel corso della seconda parte della giornata, torneranno a formarsi degli addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose e ci sarà spazio a nuove manifestazioni temporalesche in estensione verso le zone pedemontane e colinari che si affacciano sul versante atriatico. Quindi c'è ancora l'instabilità che anche nella giornata di martedì darà luogo a degli addensamenti soprattutto lungo la fascia a Peninica sulle zone interne e montuose con temporali in estensione poi nel corso del pomeriggio verso il settore orientale della nostra regione. Poi probabilmente, Andrea, assisteremo a un deciso, a un miglioramento del tempo perché è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana soprattutto al centro-sud. La nostra regione si troverà al margine tra correnti instabili che interesseranno soprattutto le regioni nord-occidentali e invece l'aria calda che raggiungerà soprattutto il meridione ma lambirà anche la nostra regione di conseguenza assisteremo a un miglioramento del tempo però attenzione perché oltre a un deciso aumento delle temperature previsto soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì ci sarà comunque sempre la possibilità di fenomeni di instabilità. Comunque il dato certo è che con tutta probabilità le temperature saleranno ben al di sopra delle medie stagionali soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, Andrea. Insomma, il prossimo fine settimana, dunque Giovanni, potrebbe essere un po' migliore rispetto all'ultimo? Ma guarda, gli ultimi aggiornamenti non sono tanto positivi nel senso che è vero che avremo questa rimonta dell'alta pressione africana però successivamente una perturbazione atlantica raggiungerà da prima il Mediterraneo occidentale e poi la Sardegna si avvicinerà proprio nel fine settimana verso le regioni centrali se la situazione resterà tale, quindi resterà così come prospettata oggi dai modelli matematici, insomma potrebbe non essere tanto positivo il tempo nel fine settimana. È chiaro che stiamo parlando di una tendenza che va al di là del tempo che solitamente è attendibile, quindi che le previsioni risultano attendibili quindi conviene aspettare ancora qualche giorno per sapere ancora meglio cosa avverrà nel fine settimana. Intanto è previsto, e questo è un dato abbastanza probabile, un deciso aumento delle temperature a partire da giovedì quindi soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì in particolar modo sul settore centro-orientale della nostra regione. Andrea. Prima di congedarci hai smesso di festeggiare o sei ancora immerso in questo clima? È stata una bellissima soddisfazione, colgo l'occasione per fare i complimenti alla società, al mister, al Oddo che ha saputo sicuramente guidare questa formazione creare un gruppo che ci ha dato davvero tante soddisfazioni anche nei momenti, nella famosa crisi di risultati è stato in grado poi di risollevare la squadra e portarla in Serie A ma all'altra parte l'avevamo già detto tante volte questa era una squadra che ha delle qualità superiori rispetto ad altre formazioni ed è venuta fuori a livello di gioco e ha meritato parlando della finale sia l'andata che il ritorno nel complesso di andare in Serie A adesso tutto sta, come dice il mister, a non smantellare la squadra ovviamente ci sarà qualche sacrificio importante forse più che il mister il presidente Giovanni adesso bisogna comunque dare a Oddo una sformazione che sia in grado di competere in Serie A con l'obiettivo della salvezza perché Pescara penso che se la squadra non verrà smantellata se verrà ritoccata con qualche pedina importante potrà dire la sua anche in Serie A Grazie, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 Grazie, grazie Giovanni De Palma peraltro nella seconda parte di questa nostra rassegna stampa vedremo anche le immagini della festa in Piazza della Repubblica di sabato sera proseguiamo però con la nostra rassegna stampa prima di andare in pubblicità sfogliamo le pagine del messaggero Abruzzo qui siamo nella pagina di Pescara niente nuoto, strade chiuse, Ironman scontenta tutti lo start e l'arrivo decentrati aumentano le limitazioni al traffico e le lamentele primo al traguardo in meno di 4 ore l'olimpionico svizzero Rudy Wild poi ancora giornata condizionata dalle avverse condizioni meteo annullata la prova in acqua, completati il ciclismo e la corsa lacrime e fiori bianchi per radio a Matteo a cappelle sul tavolo il paese si è stretto intorno alla famiglia porteremo con noi il tuo sorriso scrivono gli amici pagina ora dell'Aquila variante sud oggi in consiglio intanto Onna mette i paletti Angelone residenti penalizzati rotonde chiese da spostare vogliamo chiarimenti oggi in aula è attesa la dimostrazione dei comitati contro la modifica del tracciato noi vorremmo che si facessero rotatorie sbagliate come non vorremmo che si facessero rotatorie sbagliate come Abbazzano che poi hanno dovuto modificare per far passare gli auto articolati San Massimo Piovoso ma i riscontri sono buoni capretti, abusivi, ridotti al minimo regolari il traffico domenicale prossimo appuntamento con la perdonanza e poi per il GIP Cialente, Ruggeri e Iannini restano indagati avanti ancora con le vicende delle comunali di Sulmona Dimasci Bianchi si spacca Forza Italia apparentamento tra l'ex PD e la candidata del centro-destra la forzista Casini non ha dimostrato di avere una visione Gatti, Sospiri e Febbo avevano bollato l'accordo questa è la Repubblica di Sulmona Pellino Graffia stiano a casa loro la senatrice stronca l'intromissione forte della delega ricevuta da Pagano gli azzurri puntano a due seggi in consiglio e poi ancora andiamo avanti con la pagina di Chieti indossa la maglia del Pescara studente picchiato alla festa grave episodio di violenza nel campus il ragazzo è stato medicato in ospedale la malata rivalità tra i due capoluoghi ha contagiato anche gli universitari forse la vittima aveva preso parte alle celebrazioni della promozione dei biancazzurri in Serie A a Lanciano patto d'amico Paolucci sui tagli della politica i punti forti fusioni tra comuni e zero indennità sia a casa Pound e l'alleata sarà vice sindaco a Ortona più sicurezza sulle strade con la nuova illuminazione invece a Vasto si brinda al Frecciabianca cerimonia al binario 1 con D'Alfonso sindaci e vari politici ad accogliere i primi passeggeri venduti centinaia di biglietti andiamo ora nella pagina di Teramo addio al BCC del modello Teramo Tancredi un passaggio doloroso assemblee e fusione per incorporazione con Castiglione Messerra e Mondo Pianella l'onorevole del nuovo centrodestra ma sarà il polo cooperativo più grande d'Abruzzo l'ex presidente Artoni una via obbligata Savini diventa il nuovo Dominus banca da 35 milioni di patrimonio libero a Giulianova torna il Frecciabianca gli hotel rifondono i biglietti 60 strutture aderiscono il turista che resta una settimana si vedrà rimborsare fino a 40 euro e poi il colpo fallito con il carroattrezzi rubato sfondano vetrina del market in basso a Roseto di Girolamo e Pavone duri e puri avanti verso il voto i candidati dopo aver trattato con Ciancaione per rispetto dei propri elettori proseguono da soli noi invece ci fermiamo qui poi vedremo alcune pagine dei principali quotidiani sportivi e successivamente le pagine dello sport delle testate locali ma anche alcuni servizi di nuovo buongiorno la seconda parte di mattino 6 riprende la nostra rassegna e vediamo ora Gazzetta e Corriere dello Sport questa è la prima pagina della Gazzetta siamo l'Italia stasera il debutto azzurro con la nostra difesa di ferro il gruppo e la coppia d'attacco Eder-Pellè sfidiamo il Belgio dei fenomeni nell'altra gara del gruppo tocca a Ibra con l'Irlanda non essere favoriti ci fa bene è il commento di Umberto Zapelloni fischio d'inizio a Lione alle ore 21 e poi ancora l'urlo del CT noi abbiamo gli occhi cattivi ora vedremo chi ha ragione la tattica nell'Italia Juve Darmian difensore in più De Rossi play gli avversari Hazard avvisa Conte vedrà quanto valgo e poi ancora sotto la testata il Gran Premio del Canada Superfette l'autogol Ferrari Hamilton festeggia come Ali Seb scatta in testa poi una scelta discutibile ed è secondo l'analisi di Pino Allievi strategia incomprensibile in basso per la Lega Pro Gattuso colpito ma va in via affogge un pareggio con risse e invasione Pisa promosso bottiglietta sul tecnico vittoria che vale più del mondiale questo è un tema che ricorre perché la stessa cosa l'ha detta Massimo Otto dopo aver portato il Pescara in Serie A vittorie queste che appunto secondo loro valgono più di un mondiale mercato Berardi Tentenna la Juventus di Dall'Ultimatum è sbarcato Pjanic poi alcuni richiami basket tra Italia e NBA Milano e Golden State hanno il match point Atletica Bolt in Ciampa però fa un tempone a Kingston vola in 9 secondi 88 Killer massacra 50 persone in un club gay degli Stati Uniti e terrorismo dell'Isis e poi entriamo all'interno della gazzetta dello sport ecco qui pagina 2 e 3 insieme si riparte Italia ribalta l'Euro i fenomeni ce li ha il Belgio ma è così che si fa la storia e queste sono le due probabili formazioni quella del Belgio e quella dell'Italia con Pelle e Deder in avanti con il trio della Juventus Chiellini Bonucci e Barzagli in difesa poi ancora le parole di Antonio Conte che lancia la sua sfida l'Italia a occhi cattivi vedremo chi ha ragione il CT comincia all'Europeo orgoglio e responsabilità poi il campo dirà quanto valiamo vediamo sempre altre pagine relative all'Europeo qui discorso a tutta tattica d'Armian difensori in più De Rossi Play e non solo la nostra stella e Conte e poi circa gli altri fatti dell'Europeo ultimatum all'Europa Inghilterra e Russia fuori con altri scontri neo-nazisti in azione poi c'è l'intervista a Romano Prodi siamo in ebollizione il calcio non frena più le tensioni politiche l'ex premier numero uno della commissione UE adesso il gioco è partecipe di un'inversione di rotta in Europa e tutti contro tutti andiamo avanti con le pagine che riguardano il Gran Premio del Canada andiamo a vedere il titolo della Gazzetta Hamilton un pugno al Mondiale con Ali Vettel colpisce a sorpresa lui spara e vince ai punti e poi scelte non azzeccate ma guai ad attaccare i tattici della Ferrari Lewis ha percorso molto più strada con le Ultrasoft dice Vettel arriva bene non ci accontentiamo del secondo posto e direi che per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport possiamo fermarci qui andiamo a vedere ora la prima pagina del Corriere dello Sport ovviamente l'apertura dedicata alla partita di questa sera tra Belgio e Italia grinta e testa Conte sfida il Belgio e carica l'Italia da nazionale al debutto ore 21 il CT ci crede servono aggressività e tattica per vincere loro pieni di talenti poi sotto la testata rischio esclusione per inglesi e russi pugno duro dell'UEFA dopo gli incidenti di Marsiglia espulsione in caso di altri episodi di violenza per il mercato svolta clamorosa e Berardi l'attaccante per l'Inter il giocatore del Sassuolo non sembra convinto della soluzione Juventus il club nerazzurro pronto a buttarsi nella trattativa fare fatto Juve pianice già a Torino oggi le visite la novità il Napoli pensa a Bebi Tolisso Tolisso quindi talento francese e poi Gattuso in B colpisa il patron lo licenzia spareggio brutti incidenti a Foggia e poi per la Formula 1 Hamilton altro trionfo Vettel illude secondo lui si vince in Canada davanti al ferrarista e poi tornando agli europei Germania ok Milik decisivo per la Polonia e c'è l'opinione di Walter Veltroni tutti insieme con gli azzurri anche qui pagina 2 e 3 da Italia tutti insieme fino a Parigi e poi le parole di Antonio Conte guerrieri con la testa e queste sono le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport direi di dare uno sguardo un po' più avanti alla serie ci vorrebbe dire serie B ma ormai è serie A in realtà quando parliamo a questo punto del Pescara ecco qui c'è l'articolo di Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport Pescara Sebastiani un mercato senza fretta chiaramente in primo piano quando si fanno discorsi di mercato in chiave biancazzurra c'è sempre lui Gianluca Lapadula al centro dell'attenzione poi questa volta sì sicuramente per la serie B troviamo questo articolo Cosmi e Castori una scelta di vita il Bari è al buio il tecnico perugino riparte dal Trapani l'allenatore Marchigiano guiderà il Carpi direi che ci possiamo fermare qui anche per il Corriere dello Sport riprendiamo ora a parlare di pagine locali questa volta però le pagine dello Sport attraverso il centro e riprendiamo chiaramente dal Pescara Pescara in A il mercato del Delfino Moggi e Sebastiani vertice per la Padula oggi l'incontro per decidere il futuro di mister 30 gol c'è un intrigo tra Napoli e Juventus il procuratore vorrebbe portare il canoniere della Bia alla corte di Sarri mentre il presidente gradirebbe di più una sistemazione a Torino in tutto questo panorama il Genoa resta in attesa insieme al Sassuolo intanto c'è da registrare anche il possibile ritorno dal Frosinone di Soddimo piace Duda del Legia e poi è anche il momento del relax per i giocatori a stagione conclusa ecco qui intanto il bomber si rilassa al mare lo stabilimento balneare il Moro sabato la pagola trascorso la giornata in spiaggia Campagnaro è già in Argentina e non ha partecipato alla festa di sabato sera contratto prolungato per un'altra stagione il difensore del Pescara assente alla festa tornerà per il ritiro poi ancora Crescenzi vorrebbe stare a Pescara ma c'è pure la Roma per il terzino del club giallorosso la società biancazzurra tra una decina di giorni potrà esercitare il diritto di riscatto il giocatore a Trapani mi resta l'amarezza di non aver potuto festeggiare subito con i compagni perché sono stato chiamato al controllo antidoping ma poi è stato bellissimo le parole di Andrea Coda il difensore arrivato a gennaio hanno travagliato ma mi rifarò l'ex difensore della Sampdoria bloccato da due infortuni so che Oddo mi stima e poi la Serie A della stagione 2016 2017 inizierà presto inizierà domenica 21 agosto poi ancora sempre in tema di Pescara la storia incredibile dei fratelli Zampano Ina i fuochi d'artificio cominciati da Giuseppe per festeggiare con il Crotone poi la volta del gemello Francesco questa stagione resterà nei nostri cuori e allora a proposito di festa andiamo a vedere alcuni passaggi della festa del Pescara che si è tenuta in piazza della Repubblica sabato sera con gli interventi in particolare quelli che sentiremo del presidente della Lega di Serie B Andrea Bodi che saluta di fatto il Pescara e poi l'allenatore Massimo Oddo ci dispiace che ci lasciate lasciate una Lega comunque che cerca di migliorare però ve lo siete meritato vi guarderemo da lontano teniamo soltanto di vedervi in Serie A per il tempo possibile però la cosa che vogliamo di più oltre a una dignitosa Serie A che mantenete nella memoria il vostro percorso nella nostra Lega e nella nostra categoria perché credo che si possa stare benissimo in Serie A ricordando tutto il vostro percorso e il vostro passato ma guardate io vi dico sinceramente che sto provando la più forte emozione la sto provando adesso perché prima non mi sono reso conto di quello che questi ragazzi non sono stati di partecipare poi non so sarà l'adrenalina la responsabilità il fatto di essere di Pescara e ho finito la pazia che non avevo neanche le forze di risultare e invece adesso mi sto rendendo conto di quello che i ragazzi hanno fatto quest'anno un bravo a tutti quanti un bravo un bravissimo a tutto lo staff tecnico perché magari non li conoscete benissimo come ragazzi come me ma hanno fatto un lavoro eccezionale insieme a me e anche più di me Massimo Otto salta con noi Massimo Otto salta con noi Massimo Otto salta con noi Massimo Otto Piero Mazzoletti Salta con noi Salta con noi Grazie a tutti. 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 In rapporto con i giocatori. Io ho con un rapporto con i giocatori. Il rapporto con i giocatori è la prima cosa è che tu devi avere anche un feeling con loro. Deve essere capace anche di far capire a loro che la prima cosa è la loro capacità di andare avanti, quindi di raggiungere determinati sogni. In Serie A cosa bisogna fare? Bisogna soprattutto un po' tenere un po' l'ossatura di quella che è, perché forse l'altra volta l'errore è stato di voler cambiare e dopo 4 anni siamo tornati in Serie A. quindi sicuramente non è stata un'improvvisazione, è stato un progetto, una programmazione e grazie alla voglia, alla capacità di queste persone che ci sono state a mandarla avanti quindi anche nei momenti difficili si sono demoralizzati, hanno capito che avevamo le possibilità di fare qualcosa di grande perché avevamo la squadra a un certo livello, devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali, bravissimi perché hanno recepito un po' tutto quello che è stato detto e si è creata veramente una famiglia Parliamo ora di Virtus Lanciano, possiamo ricostruire un grande Lanciano, parla Valentina Maio non so cosa faremo ma se ci torna l'entusiasmo di un tempo, siamo in grado di risalire in B ci si può rialzare anche dopo esperienze negative ma per farlo bisogna avere entusiasmo Allora anche in questo caso andiamo ad ascoltare le parole del numero uno della Virtus Lanciano Però penso che a volte quando succedono queste cose bisogna capire, bisogna fermarsi e capire che anche dalle situazioni negative si può ripartire, si può ricostruire da capo perché comunque a prescindere dal direttore se va via o non va via sono cose che si stanno ancora valutando non si sa neanche l'allenatore, non si sa niente, non si sa i ragazzi che hanno voglia di rimanere o no non sapevo anche noi però penso che se io e mio fratello ritrovassimo l'entusiasmo, quello forte, quello del primo giorno siamo in grado di ricostruire questa squadra e veramente di portarla in capolista e quindi ritornare in Serie B perché siamo una famiglia onesta, siamo due ragazzi onesti ci possono dire di tutto ma alla fine ci abbiamo sempre messo la faccia e siamo veramente dei bravi ragazzi con dei grandi valori importanti che ci trasciniamo dentro lui ha una caratteristica che io non ho, che secondo me la sua forza è forse la mia debolezza lui è una persona molto realista, molto concentrata su quello che è la realtà su quello che sono state le cose che ci hanno tolto e le cose che ci hanno dato io sono più di cuore, sono più di panto però insieme, secondo me, lui con le sue cose io con le mie, unendoci possiamo fare grandi cose andiamo verso la parte finale della nostra rassegna l'Aquila, il giorno dell'Assemblea dei Soci per quanto riguarda la Lega Pro per Amadio e Speranza parliamo di Teramo, cioè la tentazione latina su richiesta di Vivarini l'ex tecnico sta per firmare con la squadra laziale in Serie B da Catanzaro sono in arrivo le richieste di rinvio a giudizio per l'inchiesta Dirty Soccer e poi il Pineto vola in Serie D i biancazzurri battono il Subasio 2-1 anche al ritorno grazie alla doppietta realizzata da Ndiaye nella ripresa vantaggio iniziale degli Umbri che hanno avuto la chance di raddoppiare ma il baby Mazzocchetti ha parato un rigore e poi ci sono le parole di Ammazzadorso siamo andati più lontano del previsto e qui altri scatti che ritraggono appunto la gioia del Pineto dei giocatori dell'allenatore della dirigenza parla il presidente Brocco traguardo stupendo il tecnico resta con noi la gioia del DS Giammarino è stato un grande lavoro di gruppo avanti ancora con la pagina anche in questo caso della Serie D chiedi ipotesi doppia squadra la cordata guidata dal teatino Trevisan pensa di acquistare il titolo del Torre Alex e chiedere l'utilizzo dell'Angelini avviati i contatti la decisione è legata ai pesanti debiti del club neroverde Pomponi porta avanti il suo progetto e poi l'avezzano di Tortora riparte dalle conferme Giulianova giorni decisivi per avere una nuova società per il basket da Roseto a Helsinki l'europeo di Sacripanti il coach in Abruzzo per preparare la sua nazionale under 20 alla sfida continentale chiedo impegno, volontà è feroce nonno e padre di Nereto di cui lui è cittadino orario qui mi sento a casa dice il tecnico che punta al podio e poi ancora Sharks l'ora delle scelte tra mercato e politica e poi parla il presidente dell'amatori Pescara Carlo Di Fabio l'amatori non ha rimpianti è un anno da ricordare il presidente sereno per me è come se avessimo vinto mi piacerebbe ripartire da Bini, Raiola e Capitanelli altri saranno più difficili da tenere queste le parole dunque del presidente Carlo Di Fabio dell'amatori Pescara invece noi ci fermiamo qui finisce l'appuntamento con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti del nostro Tg alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 invece questa sera data anche la concomitanza con la gara dell'europeo dell'Italia contro il Belgio alle ore 21 non ci sarà la trasmissione replay di Enrico Rocchi che è andata in onda con un numero speciale venerdì scorso l'appuntamento con replay sarà per lunedì prossimo con l'ultima puntata da parte mia un saluto a tutti voi un ringraziamento a Gianni D'Areo in regia e l'appuntamento con mattino 6 e per domani mattina alle ore 7 buona giornata a Gi. a Gi. a Gi. Grazie a tutti